E' una donna di 28 anni, la vittima dell'incidente stradale è venuto questa mattina sulla Statale 89, tra Foggia e Manfredonia, nei pressi della zona industriale del centro Sipontino. La vittima era a bordo di una utilitaria che, per cause ancora da accertare, è rimasta coinvolta nel sinistro, con un furgone. Quest'ultimo mezzo si è ribaltato. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della polizia stradale, dei vigili del fuoco e personale del 118. Purtroppo, per la donna non c'è stato nulla da fare. La 28enne, alla guida dell'automobile, è morta all'istante nel violento impatto. Ferito il conducente del furgone, ha lavoro anche gli uomini dell'ANAS per la gestione della viabilità. Per alcune ore, infatti, è stato necessario deviare il traffico sulle complanari. Il traffico è tornato alla normalità solo in tarda mattinata al termine dei rilievi degli investigatori e solo dopo che il tratto di strada è stato liberato dai mezzi coinvolti nel sinistro.